Infissi legno alluminio pro e contro. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi L'infisso legno alluminio è un infisso particolare perché in realtà non è altro che un infisso in legno al quale viene applicato un rivestimento in alluminio e una protezione quindi ha tutti i vantaggi di un infisso in legno e anche una parte dei vantaggi dell'infisso in alluminio. Quali sono i vantaggi dell'infisso in legno? Prima di tutto l'isolamento termico perché è un materiale che è già molto termico di suo infatti non ha bisogno di taglio termico per poter diventare un infisso con prestazioni termiche elevate. Poi è un infisso naturale questo può essere importante per te oppure no però è comunque un pro è un infisso che è caldo al tatto comunque è sempre piacevole toccare qualcosa che non ti dà la sensazione di freddo perché è un infisso che è già molto isolato di suo quindi la nostra temperatura corporea non si va a depositare su quel tipo di materiale che invece è isolante. L'altro pro invece che deriva dal fatto che ha una parte di un mezzo infisso in alluminio praticamente esternamente è la protezione contro le interperie quindi è un infisso che al contrario un infisso in legno non andrà mai riverniciato soprattutto se l'alluminio esternamente è fatto come si deve questa è una regola che vale per tutte le soluzioni diciamo però il contro di prodotti fatti come si deve perché se guardiamo un prodotto da poco magari una buona parte di questi pro li va a perdere quindi è un infisso che dura tanto nel tempo che è molto termico che è piacevole del tatto e che è naturale. Il contro qual è? Cioè il contro può essere proprio se non ti piace il legno vabbè ma non penso che ti indirizzeresti verso questo tipo di soluzione. Il vero contro di questo serramento è il costo perché avendo essendo un infisso in legno quindi al costo di un infisso in legno proprio più un altro mezzo infisso in alluminio che gli si fa applicare sopra è un costo superiore a un infisso in alluminio o un infisso in legno è come un infisso in mezzo come proporzione però ti può dare tanti tanti vantaggi. Se vuoi sapere nel tuo caso specifico con le tue dimensioni con l'esposizione col tipo di lavoro che devi fare se è l'infisso giusto da scegliere e poi con quale caratteristica andarlo a fare quindi con quale tipo a livello di isolamento quale tipo di vetro contro telaio oscuramento o magari se vuoi sapere se i preventivi che ti hanno fatto sono congrui sono giusti o c'è qualcosa che magari può essere migliorato puoi avvelerti il servizio di consulenza con sistema Bisacchi dove vado ad aiutare tutti quei clienti che non possono servire direttamente come la Bisacchi perché con la Bisacchi serviamo principalmente la Romagna e non tutta l'Italia quindi ti posso aiutare a trovare le scelte migliori. Se vuoi saperne di più vai su www.blog.blog.it bisacchi.it e richiedi la consulenza personalizzata fai presto perché dedico solo 4 ore alla settimana questo servizio tutto il resto della settimana è giustamente dedicato alla Bisacchi ciao e al prossimo video Grazie a tutti